Romano Ancona, vuoi prendere in moglie la qui presente Angela De Luca? Sì, io voglio. Angela De Luca, vuoi prendere in marito il qui presente Romano Ancona? Sì, io voglio. I testimoni hanno udito la risposta affermativa degli sposi? Sì, sì. Un nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. Sì, io voglio. Sì, io voglio. I'm on fire, I'm on fire I'm on fire, I'm on fire